Ricominciamo a settembre, sarà la stagione della grande partita del Quirinale, sarà la stagione della ripartenza che ci ha promesso Mario Draghi, sarà la stagione delle ritrovate nostre libertà, speriamo, sarà sicuramente Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce Quarta Repubblica, la nuova edizione, da lunedì 6 settembre in prima serata, Rete 4.